Ciao ragazzi, oggi parliamo del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Andiamo un attimino a vedere chi e quando lo ha ratificato. Il 12 luglio 2012 il Senato della Repubblica approva la modifica dei trattati che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità. Il 19 luglio viene approvato dalla Camera dei Deputati, mentre il 23 luglio l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, promulga in gazzetta ufficiale la ratifica. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo tra l'inverno e la primavera del 2011, un anno prima. A seguito della crisi economica del 2008, i paesi europei decidono di costruire un meccanismo che sia in grado di aiutare i paesi più in difficoltà economica e cominciano a lavorare sul MES. Come previsto dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione Europea, dopo una proposta di revisione, Commissione e Parlamento devono dare un loro parere positivo. Dopo questo parere, il Consiglio Europeo viene convocato e firma il nuovo testo modificato. Dunque, il 23 marzo del 2011, il Parlamento Europeo si riunisce e vota a favore delle modifiche. Due giorni dopo, il 25 marzo, si riunisce il Consiglio Europeo, che è composto dai capi di Stato e di Governo dei singoli paesi membri e ratifica la modifica dei trattati. Ma chi c'era al Governo il 25 marzo del 2011? E chi invece nel 2012, quando il Parlamento ha approvato definitivamente? Questa che vedete è la foto ufficiale del Consiglio Europeo del 25 marzo del 2011. Come potete vedere, a rappresentare l'Italia, in fondo, a destra, c'è Silvio Berlusconi. E già, perché il 25 marzo del 2011 era ancora in carica il Governo Berlusconi IV. A seguito della crisi economica che investe l'Italia, nell'estate del 2011, il Governo Berlusconi cade e il 16 novembre del 2011 entra in carica il Governo Monti. Il fatto che sia entrato in carica un nuovo Governo non ha però nessun significato, perché il Governo aveva già ratificato in precedenza il Trattato e manca solo il voto del Parlamento. Parlamento, che non essendo finita la legislatura, rimane lo stesso che appoggiava il Governo precedente. Dunque, in definitiva, chi è che ha approvato il Meccanismo Europeo di Stabilità? Beh, ci sono due passaggi fondamentali. Chi appoggiava il Governo che ha firmato e poi quali gruppi parlamentari, durante la ratifica avvenuta un anno dopo, hanno votato a favore. Il Governo Berlusconi IV, che impegnò l'Italia nella ratifica dei trattati, era supportato da Popolo della Libertà e Lega Nord. Dobbiamo ricordare che Fratelli d'Italia ancora non esisteva e tutti i parlamentari facevano parte, quasi esclusivamente, del Pdl. Anche se non è un vero impegno giuridico, la firma di un trattato costringe, sicuramente da un punto di vista politico e di rispettabilità internazionale, a far ratificare al Parlamento successivamente il trattato. Anche se è cambiato il Governo. Quindi, se anche la Lega Nord voterà contro alla Camera e al Senato nel 2012 per l'istituzione del MES, è quantomeno un comportamento incoerente, poiché aveva, tramite il suo Governo, firmato il MES solamente un anno prima. Mentre Pdl, quindi il Forza Italia di oggi, ha votato a favore in tutte e due le sedute del Parlamento, anche se con una parte di astenuti, e in particolare la persona di Giorgia Meloni, allora deputata, non votò a favore, ma non votò neanche contro, perché era assente dall'Aula, quindi non ebbe il coraggio di votare contro, ma in realtà anche lei, un anno prima, con il suo Governo, aveva firmato il MES. Piccola considerazione ulteriore, ma se a novembre 2011 il Governo Berlusconi non fosse caduto e il Parlamento avesse appoggiato comunque il Governo Berlusconi anche nel 2012, a quel punto, Lega avrebbe votato a favore? Popolo della Libertà, si sarebbero astenuti alcuni dei suoi diputati? Beh, io non credo, sinceramente. Ultima considerazione, il Movimento 5 Stelle allora non esisteva, o meglio esisteva, ma non era presente in Parlamento, dunque, certo, non può avere nessuna colpa della votazione del MES. Mentre il Partito Democratico, che ha votato a favore durante il Governo Monti nel 2012, non è certo responsabile della firma effettuata da un Governo di coalizione di centrodestra un anno prima. Dunque, per concludere, il MES è stato portato avanti in Italia dal Governo di centrodestra nel 2011 e a seguito della caduta di questo Governo una parte, cioè la Lega, si è defilata, mentre l'altra parte, Popolo della Libertà, assieme a quelle che prima, nel 2011, erano le opposizioni, ha finalmente approvato il MES, che era stato chiesto già dal Governo di centrodestra. È inutile dire che nell'Eurogruppo di due giorni fa il MES non è certo stato approvato o richiesto dall'Italia o altre nazioni, ma inserito in un ventaglio di opzioni per fare fronte alla crisi odierna. Ventaglio di opzioni che io, tra l'altro, ritengo essere non sufficienti, ma questo sarà l'argomento di un prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.